Sì, oh, si è vinto, dai, sì, si è vinto, si è vinto, ma ragazzi, ma quante, a me sembrava di rivedere una delle prime partite dell'anno, ma quante cazzo di palle gocci si ammangiai, ma quanti gocci si ammangiai, ragazzi, che palle, che palle le partite così, questa partita fosse finita, boh, 5 a 0, si sarebbe rubato nulla, ma che palle, Ma che palle, ma che palle, ma io, eccoci, ragazzi, solo 1 a 0, solo 1 a 0, e c'era Turchi, Dio Bono, lì in formaggino, e le erano lì in porini perché pensavano di fare il risultato, ma voi dovresti essere contenti, Dio Bono, ci siamo mangiati pur i bove davanti alla porta, cioè io, ragazzi, io stasera, fra tutti, gli attaccanti, boh, tra Jovic e Caprale sono entrati tutti e due, No, nel senso, Caprale è entrato, ma anche Jovic, mamma mia, che dramma, che dramma, poi ve lo dico, a parte la traversa clamorosa sarebbe stato i Puskas dell'anno prossimo di Castrovilli, Castrovilli non mi è garbato, per niente, vi devo dire, per nulla, idem, anche Buonaventura, Buonaventura, non mi è garbato, per nulla, nemmeno lui. Vi devo dire, sono stati meglio i cambi di quelli che erano titolari, perché nel primo tempo si è giocato bene, ma ci si è mangiati la qualunque, Dugensi si sarà fatto 15 tiri, almeno 5-6 in porta, 15 tiri, 4-5 occasioni nitidissime, di cui, a parte una sfigata alla traversa di Castrovilli e il resto mangiate da noi, ragazzi. Ma il tiro di Jovic in bocca al portiere con il proprio pallonetto, ma ancora peggio dopo Mandragora. Sì, Mandragora, Buonanotte, Buonaventura, ma cosa cazzo fa, Buonaventura, ma perché vuoi provare il pallonetto, sei a tu per tu con il portiere, ma cosa fai? Ma cosa fai? Sempre la scelta sbagliata, sempre, 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 sempre. Quelli che sono entrati bene oggi sono stati i centrodampisti, perché Mandragora è entrao bene, Barak il migliore in campo, Barak l'entrao di buono one man army, Barak. Gole e poi ripigliava solo lui, palloni ripigliava tutti lui, gli ripigliava tutti lui, Barak. Entrao in campo, ragazzi, l'uomo della conference, Barak, davvero, l'uomo della conference. Però, ragazzi, cioè, non va bene. Io, cioè, sei vinto, però, ragazzi, non va bene. Cioè, ci siamo già, dai, via, devo essere contento. Sì, dai, sei vinto il Sivas, ma il Sivas, porrazi. Dai, facciamo un passaggio da qui a lì. Tra l'altro, poi, più forte ci avevano in campo, le ha anche spulso. Sì, non c'è nemmeno nel giro di ritorno, perché gli è partito di cervello, ha deciso di dare una gomita a palla lontana a Martina e Squarta. E l'era gradella, appunto. Per il resto, ragazzi, ma le gente scarsano culo, dai, via. Cioè, sta partita tu li dovevi asfartare, asfartare. Solo un a zero non va bene. Poi, per carità, sei comunque vinto. Però, tu c'è da già il ritorno in casa loro. Le hanno trasferta fino in Turchia, cazzo. Eh, puttana Eva. Eh, che palle. Vabbè, dai, ragazzi, sei vinto. Gran gol di Baracca. Batti, ribatti, robe, cose. Gol, ma già, il primo tempo, l'amorosamente. Infiniti. Traversa di Castrovilli, che se viene dentro, viene giù lo stadio, ma lo vedranno da tutte le parti del mondo. Lo vedranno pure a Tonga, questo gol. E invece, niente. Invece siamo sfigati, si è a noi, e quindi piglia traversa. Poi, nel secondo tempo, siamo entrati male. Primi 10-15 minuti prima dei cambi, malissimo. Malissimo, malissimo. Cioè, attaccava a base di più i si fa sport di noi. E poi, dopo i cambi, questo 4-2-4, con Mandragora, i Baracca, i centrocampisti. Eh, 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 eh. Si è ripreso parecchio campo, però, ragazzi, troppo imprecisi. Se hai entrato bene, è entrato bene. Allora, qua me è entrato bene. È rientrato bene in campo gli ultimi minuti. L'è entrato bene pure Sottil, però Riccardo Cristo, di Dio. Cioè, davvero. Quando tu dovevi fare un cross-alto, te lo facevi a Rasoterra. Quando tu lo dovevi fare a Rasoterra, te lo dovevi fare. Certo, quando in mezzo c'era qua Mediobono, gli hai tirato da solo. Gli poteva fare 2-0, gli hai tirato una fucilata. Vaffanculo, a 2.000 all'ora. Eh, che cazzo, ragazzi, via. Ma nemmeno a farla apposta, davvero, tutte queste occasioni ci si mangiano. Eh, vabbè, le andate così. Dai, ragazzi, via. Si è vinto, prendiamoci sta vittoria. Almeno la prossima settimana si va comunque con un gol di vantaggio. Ma lei come non averlo fatto. Perché, ripeto, lei è una trasferta in casa loro. Poi, per carità, siamo nettamente superiori. Nettamente. Cioè, ci si impegna la metà di stasera. Essendo un po' più precisi, si vince lo stesso. Si vince lo stesso. Però stasera, ragazzi, cazzo, sembra... Poi si è fatto tutto noi. Nemmeno a dire il miravoli di portiere, pali, travesse, roba e madonne. No, si è fatto tutto noi, Cristo. Ma è il solito. Vabbè. Sempre forza viola, ragazzi. Vaffanculo. Solo 1-0, però non va bene. Via. Solo 1-0 non va bene. Però... Però dai. Dai. Almeno si è vinta anche questa. Via. Sempre forza viola, ragazzi. Ciao.